Signore e signori, è arrivato il momento che tutti aspettavate, la gara più famosa del Jack Rabbit Slims, il Twist, signore e signori. Ed è così che una coppia fortunata vincerà questo splendido trofeo che la nostra Marilyn ha in mano. Allora, chi saranno i nostri primi concorrenti? Eccoci qui. Ho voglia di ballare. No, 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 no. Se non sbaglio, Marcellus, mio marito, il tuo capo, ti ha detto di portarmi a spasso e di fare tutto quello che voglio. E io voglio ballare, voglio vincere e voglio quel trofeo. D'accordo. Perciò balla bene. Perfetto, è voluto tutto. E conosciamo i nostri primi due concorrenti di questa sera. Signorina, lei come si chiama? Signora Mia Wallace. E come si chiama il suo compagno? Vincent Vega. Bene, vediamo che cosa sapete fare. Via con la musica! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!